Io quello non ce l'ho e ho l'altra versione di questa paletta da... eh, c'ho questo. Posso giocare? No, Nova. Venite. Aspettiamo manga. Ma io mi sto cagando. Manganime! Manganime! Vabbè. Sì, entri, entri. No, Lorenzo e Pappalando, ciao. Oddio. Ma... Manganime è entrato? No. Ah, venga, ci tolgo a speltare. Sì, ma adesso io non riesco a giocare bene. Non puoi flexare la rete che è trader. Guarda, Emiliano. Vabbè, ma io cosa dovrei fare con ciò che stanno? Io te lo andavo. Vabbè, va bene, va bene. Non volevo... No! 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 Ah, è micitonnato. Dai, che sto spari la scala? Sei no brain? No brain? Ho fatto 170. Raga, giuro che se mi fate arrivare a mille iscritti con il video che farò. Eh... No... Lo spari. Mangani, man. No, no. Aspetta, aspetta, aspetta. sono più morto ma non sto scherzando stato rotto ha fatto una case così non so manco io come ho fatto quella che è 66 all'inizio non so manchio come sinceramente ti te lo dico ma non so come sto giocando con voi vediamo se ci stiamo gli altri aspetta chi fa in loro sì non voglio morire giovane ma perché emiliano non si dicono queste parole emiliano sono più forte di quanto pensiate fidatemi ma ho paura giocare con voi no ma perché si proroga comunque se manca c'è l'altra immagine di ieri è troppo bella se siete il triplo di me è poco c'è il cane che cacchio avete vinto sì io ho 400 euro dai manca che cazzo sta facendo se ne vinto una raga tu hai vinto il winter non abbiamo vinto di 5 punti eh noi abbiamo fatto sì noi abbiamo fatto 200 di earnings eh noi abbiamo fatto 87 punti io invece l'ho fatto con un a caso quello che c'è a tocco oh você 3 killa di lui raga vado fuori do shit shit no no ok non volevo ciao emiliano emiliano torno nel mio mondo ciao lo riesco a dichiarare ho già finito ma maz ma quanti Nazi sono sei lemma come tu sei CHO io di te sei lì io ho del venet vabbè io penso nozzo già non abbiamo matto con i morti mixo dopo quando ho finito di giocare con loro quindi spero mai ma raga io posso fidarmi una cosa ma quando abbiamo finito di fare una squad mi cancellate dagli amici no no aspetta ve lo vogliono mandare tutti io tengo gli amicisti sempre un po' sono stra pieno di amicisti e devo fare un po' di pulizia ma è 9 no no il veneto doc e ti regalo il potere no mi lasero un po' emiliano poi mi lasero mi lasero adesso mi lasero da lui non voglio emiliano quella skin quanti putti avete in arena voi lega campioni 14.000 17.000 ok non volevo chiederlo di uno poi ci sono io poi ci sono io con 3.000 punti ok 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 adesso si no bro no io ti ho voluto tanto bene non fanno volere male no mi ha detto mi ha detto mi ha detto mi ha detto si cazzo lo hai intato adesso mi sento forte raga si ma scusa si ma non vuole emiliano fatti un po' stare da me emiliano no raga vi siete il mio canale si emiliano lasermi mentre emiliano lasermi lasermi raga io ve lo giuro che sono molto più forte di questo ma sono un po' emozionato non so neanche di farlo io ve lo posso giurare io ve lo posso giurare giliano ma ci diamo una calmata emiliano e opera della della black widow raga la mia specialità editare fate conto che adesso non so neanche editare mi stanno giocando con voi perché sono troppo emozionato sono quella la black widow e a partire la black widow di emiliano da una membrana ad una meccanica assurda cosa nel team nel team in chi è ci c'è emiliano mi hai fatto giocare in mano emiliano sei tu forte di tutto si lo hai stato si sai che tu hai la voce strassimile a un mio amico che è comunque forte ma è veramente uguale chi? manga? si vabbè a me non interessa che è più forte di voi ma non è vero ci sono tante nette emiliano ti ha distrutto questo è bello raga io son troppo 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 come potete farlo ehm giocare un giorno con 50 g o chiedo troppo sul cazzo uwe 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 no 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 tu vieni qua per favore ti puoi ammazzare no 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 per favore è il mio è per il mio è il regalo di natale è il regalo di natale ti ho fatto senza dirci miliano miliano lei è sempre qui va bene che il video di oggi finisce qui potete salutare per favore il video uwe sì è l'ho bella perchè io sono più morto che l'ico e ok io allora ti ho vedo Grazie a tutti.